Giovedì 9 di febbraio ci siamo con TG Mattina, ci siamo per vedere insieme la rassegna stampa partendo dai quotidiani, dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, dal messaggero Pochi Tecnici, Mina sul PNRR titola Il Messaggero Nazionale, allarme di Cnelle, Banca Italia, pesano calo demografico e mancanza di specializzazione l'Europa e gli aiuti di Stato, più flessibilità sui fondi, riconosciuto il ruolo italiano per quanto riguarda i migranti quindi Zelensky a Londra e Parigi per i jet, oggi a Bruxelles incontra anche Meloni il leader ucraino per quanto riguarda invece questa notizia, fermata a Roma, il coach pedofilo, se non ci stai con me non giochi mi rifiuti non giochi, shock nella capitale, arrestato l'allenatore pedofilo già nel 2018 era stato condannato a due anni per moleste e abusi su minori quando allenava proprio in Umbria, poi lo vedremo per quanto riguarda Perugia, il caso anziani morti di Covid ha processo la badante i coniugi erano stati ricoverati al Santa Maria della Misericordia nel febbraio 2021 una polmonite intestiziale che nel giro di poco li ha portati alla morte così la procura ha indagato con l'accufo di omicidio colposo, una badante ecuadoriana 66enne ritenuta responsabile proprio di aver trasmesso il Covid a una coppia di anziani ultraottantenni veniamo alla Nazione con la prima pagina che riguarda Sanremo è subito caso politico, Salvini critica il monologo sulla Costituzione e dà una stoccata Mattarella al festival, giusto svago, Amadeus il ministro cambi canale e poi ancora al centro, quei bambini sommersi e salvati, il miracolo di Egypt otto anni, estratto 52 ore dopo il terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria per quanto riguarda invece le città Umbre coppia di anziani uccise dal Covid, badante, indagata, omicidio colposo a Perugia come abbiamo visto anche dal messaggero stipendi dei sindaci, scatta l'aumento del 68% per quanto riguarda proprio i primi cittadini Umbri a Spello invece frazione in rivolta, acquatino e senza acqua viene rimarcato poi lo vedremo dunque questo per quanto riguarda anche la prima pagina della Nazione gli approfondimenti all'interno proprio della Nazione partendo dal caso Sanremo, polverone sulla Kermes musicale Salvini attacca, Amadeus risponde, lo scontro è politico il leader leghista Mattarella si è svagato la Costituzione non all'Ariston, Fedez strappa la foto del viceministro Bignami vestito da nazista sono quattro anni che se la prende con noi Sanremo non piace, dice Amadeus parlando di Salvini basta non guardarlo, guarderà un film, spero sia bello l'altra polemica, il leader della Lega avverte Egonu che sarà proprio protagonista al festival nelle prossime serate grande pallavolista ma spero non venga a fare una tirata solitaria razzista per quanto riguarda appunto la presenza della pallavolista azzurra Paolo Egonu al festival di Sanremo l'attacco di Rula Gebral, giornalista e scrittrice il razzismo esiste e come conferma e anche l'irritazione di Carlo Calenda, leader di azione lasci perdere il presidente ha detto proprio Calenda parlando dei commenti legati alla Kermess e alla presenza del Presidente della Repubblica pochi lavoratori senza competenze mina sul PNRR passando invece alla sfida del recovery sul messaggero la stima di Banca Italia servono 375 mila posti c'è l'allarme CNEL l'impatto del calo demografico e della penuria di professionalità viene rimarcato la riduzione della platea dei potenziali impiegati è acquita dalla fuga verso l'estero le tappe sono 66 miliardi a metà 2022 19 miliardi a saldo e 24 miliardi per il 2023 oltre a 27 obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno 2023 questo per quanto riguarda il PNRR l'intervista Francesco Baroni, Presidente Assolavoro l'occupazione cambia ma ha trovato un equilibrio tra produttività e libertà tirano le posizioni legate al digitale dai programmatori ai project manager viene rimarcato da Baroni e poi il lavoro che riparte parlando proprio di occupazione industria, bar e ristoranti attese 504 mila assunzioni per le elaborazioni AMPA all'Union Camere in crescita del numero di occupati nel paese entro marzo in vista un aumento del 13% la maggior spinta da turismo e agricoltura per quanto riguarda i vari settori nel dettaglio spiagge caccia 50 mila balneari in più alberghi tra hotel e bed and breakfast 35 mila operatori agricoltura 100 mila richieste per quanto riguarda la raccolta e poi ancora ristoranti boom di annunci l'80% per quanto riguarda i cuochi manca il 15% di candidati invece nel settore terziario e poi farmaceutici cercasi per quanto invece concerne l'industria questo dunque per fare il punto dei vari settori nella ristorazione sono previsti oltre 180 mila nuovi ingressi nei primi tre mesi dell'anno a febbraio in programma 174 mila assunzioni nell'industria e 34 mila nelle imprese della meccatronica di cui abbiamo parlato proprio ieri in una puntata di Link molto interessante che partiva proprio dalla scuola per poi passare al mondo del lavoro con la fine del reddito di cittadinanza cercheranno un posto in 600 mila scrive ancora il messaggero lo stop all'assegno scatta ad agosto i beneficiari hanno sei mesi di tempo per trovare un'occupazione lo scorso anno per il sussidio spesi 8 miliardi oggi ha un impiego solo uno su 5 tornando alla nazione invece il punto dopo un anno di guerra tra diplomazia e campo militare Zelensky a Londra e Parigi il male perderà dateci jet di chiare il leader ucraino e oggi vede anche Melone a Bruxelles il presidente ucraino a Downing Street e dare Carlo sconfiggeremo la Russia è inevitabile ha detto faccia faccia con la Premier il ministro Tajani non è vero che l'Italia è stata esclusa conferma e poi ancora per quanto concerne la situazione che c'è in terra ucraina Bakhmut quasi circondate chi è vorravaluta il ritiro il gruppo Wagner i militari dell'esercito russo hanno preso il lato est gli analisti militari ucraini se il rischio di accerchiamento salirà ce ne andremo il piano B quello in cui l'Ucraina potrebbe lasciare un manipolo di soldati nella città e trasformarla in una nuova Maripol passiamo all'apocalisse in Medio Oriente Turchia e Siria in ginocchio dopo il forte sisma le macerie la paura soccorsi lenti zone isolate rischio Big One su Istanbul famiglia italiana dispersa superati 12.000 morti corsa disperata per trovare i sopravvissuti ma mancano i mezzi l'energia attivata dal sisma di lunedì scorso potrebbe dar luogo a un evento più forte a Est il ministro Tagliani non abbiamo notizie di Angelo Zen l'imprenditore di cui non c'erano proprio punto più notizie in Terra Turca tutto è complicato dalla vastità dell'area colpita sottolinea proprio Tagliani intanto 5 scosse anche a Siena paura ma nessun danno popolazione in strada allarme scattato alle 21 e 51 una magnitudo di 3.5 avvertita dalla popolazione cinismo di regime sanzioni USA in Siria gli aiuti a singhiozzo parla Talbot di Ispi Assad discrimine i ribelli meglio dare aiuti materiali l'embargo americano non sarà sospeso passiamo di nuovo al messaggero parliamo di cronaca per una notizia che riguarda anche l'Umbria se parli non giochi più shock nella capitale arrestato il coach pedofilo il 55enne allenatore di una squadra di basket avrebbe abusato di un 13enne invitavi i ragazzi nella sua stanza si teme che le vittime possano essere molto di più l'uomo era stato già condannato nel 2018 dal gruppo di Perugia per molestie sui minori oggi l'interrogatore a regina Cieli in passato si era giustificato così sono una persona affettuosa aveva detto qui proprio si fa anche il nome gli agenti della squadra mobile di Roma gli hanno stretto le manette e polsi Polo Traino 55enne allenatore di basket originario di Bolzano non è posto resistenza viene ricordato proprio dell'esperienza precedente per quanto riguarda la scorsa condanna per l'accusa Traino avrebbe abusato almeno di un 13enne mentre era tra gli allenatori del settore giovanile della società sportiva della Stella Azzurra di Roma gli abusi sarebbero consumati all'interno di una foresteria anche Traino risiedeva lì visto che si era dovuto trasferire dall'Umbria la vittima non ha chiesto aiuto si legge si indaga però per accertare i precedenti scrive proprio il messaggero avvenuto in Umbria nel 2018 era stato condannato dal gruppo di Perugia a due anni con unità previato per molesti e abuse sui minori all'epoca le vittime erano quattro questo per quanto riguarda dunque questa vicenda che da Perugia si è spostata a Roma passiamo quindi proprio parlando di questo alla prima pagina del Corriere dell'Umbria che la riporta appieno in apertura abusi sessuali arrestato istruttore di basket il 55enne Perugino insegnava a Roma ed era già stato condannato per fatti analoghi nel capoluogo Umbro lo conferma anche il Corriere dell'Umbria la fotonotizia riguarda invece la Formula 1 perché Alunni Bravi è promosso all'Alfa Romeo nato Umberti dell'avvocato Alessandro Alunni Bravi e il nuovo team representative dell'Alfa Romeo qui proprio in foto l'avvocato Umbertidese quindi due treni su dieci arrivano in ritardo l'inchiesta del Corriere per quanto riguarda il trasporto su ferro la voce dei lettori cedono le sponde del torrente Genna a Perugia quindi Agenzia delle Dogane scopre frodi per 34 milioni il bottino riguardava IVA e in poste vase dimissioni volontari lasciano il posto in 13.000 fenomeno riscontrato soprattutto nell'ultimo biennio e poi le interviste quella a Vittore Bianchini esperto di Subacqua ho dedicato la mia vita al mare racconta il Corriere e anche quella per lo sport a Nicola Gerbic ex allenatore della Sir Perugia la rosa ora è più profonda ha detto il tecnico che lo scorso hanno allenato i bianconeri Citerna invece l'altro ripreso dalle telecamere il video postato sui social il proprietario della casa ha difatti diffuso le immagini andiamo alla nazione in primo piano gli stipendi dei sindaci perché scatta l'adeguamento dei compensi del 68% arrivano le competenze di gennaio ai primi cittadini assessori dei 92 comuni della regione anche i consiglieri comunali potranno vedere crescere l'assegno mensile in base alle presenze sopra badanti indagata per omicidio colposo avrebbe contagiato la coppia di anziani che assisteva poi deceduti in ospedale i fatti avvenuti nel febbraio 2021 per quanto riguarda invece Spello acquatino senza acqua frazioni in rivolta residenti esasperati caro bollette luce gas così le imprese risparmiano 27 milioni da Perugia alla centra il carlato messo in fuga dal proprietario e poi truffa anziana suo figlio è in difficoltà e vengono estorti 4 mila euro ancora nei box in basso l'isola del tesoro ecco le marionette colla la compagnia internazionale al cucinelli di solomeo e poi anche qui abusi su minori nuove accusa il coach di basket la sentenza era stata già messa in umbra nel 2018 l'uomo arrestato a Roma era stato già condannato a Perugia e interdetto all'attività passiamo quindi al messaggero morti di covid badante a processo Perugia la donna non avrebbe atteso in quarantena l'esito di un tampone è indagata per omicidio colposo i due anziani deceduti dopo aver contratto una polmonite il Codacons nella fotonotizia importi triplicati purtroppo non sono errori bollette ratizzazioni per non chiudere bottega si legge proprio con tanto di bollette mostrate qui in primo piano Assisi invece si torna a parlare dell'omicidio di Davide Pian Piano diteci come morto Davide questa la richiesta da parte della famiglia del ragazzo debiti di droga i giovani vittime delle dose gratis terni si allarghi il giro degli studenti coinvolti che rubano loro in casa da Perugia la protesta di un quartiere spaccio e degrado qui siamo da serie B per quanto riguarda l'area di Fontivegge e poi Corte dei Conti danno a immagine Carabinieri è stato condannato per questa notizia di cronaca giudiziaria come lo è di fatto anche se non solo quella della pedofilia Manetta il coach era stato già condannato il perugino 55enne nativo comunque di Bolzano come abbiamo visto e poi nei box in basso arriva il carnevale Carri Bace un po' di Sanremo ne parleremo approfonditamente poi nel caffè da Terni Umbria Libri Love parla Gabriella Genisi scrittrice dalla cui fantasia è nata la figura della vicequestore Lolita Lobosco protagonista con Luisa Ranieri di una nota serie TV Rai un nuovo libro su Lolita in arrivo annunciato proprio la scrittrice Gabriella Genisi per quanto riguarda lo sport Perugia il centocampo è la chiave Santoro rinnova fino al 2026 Ternana Agazzi e Bogdan si fermano entrambi per problemi muscolari Podismo San Valentino la Maratona Acea fa il pieno di scritti ben 1500 veniamo quindi al nostro tour online partendo dal nostro sito www.trgmedia.it frecciarossa sessore melasecche servizio confermato nel 2023 con possibilità di estenderlo fino al dicembre 2024 intanto per il gubbio domani inteso come oggi alle 15 il test con l'Arezzo al Barbetti ingresso libero parlano intanto gli acquisti di gennaio Nicolao Greco Barras e Dutu qui tutti i quattro in foto i nuovi arrivati al mercato di gennaio e poi scorrendo tutte le altre notizie con il nostro archivio video sempre aggiornato www.trgmedia.it per quanto riguarda Perugia Today figli e promesse sposa due sconosciuti padre e madre davanti al giudice per il matrimonio combinato violenza sessuale su minore dopo gli allenamenti in manette l'allenatore perugino di basket contagiati dalla badante muoiono due anziani indagata la donna per omicidio colposo andiamo a tuttoggi.info due ettari di bosco divorati dalle fiamme indagini in corso è successo a Gubbio come possiamo vedere nel dettaglio soprattutto nella località di Montanaldo l'incendio si è sviluppato martedì 7 di febbraio sempre dalla prima pagina di tuttoggi.info a Città di Castello ladri tagliano cassaforte a metà in fuga con 10.000 euro di gioielli prima del furto avvistato un Audi sospetta la medesima auto avrebbe speronato i carabinieri eterni la stessa sera le indagini sono in corso e in Umbra si muore meno per i tumori ma aumenta il cancro alla mammella Umbra 24 anche qui in primo piano l'arresto per violenza sessuale di un allenatore di basket perugino già condannato dal tribunale Umbro abusato di un minore sfruttando il suo ruolo di coach quindi ucciso a caccia la famiglia chiede una perizia balistica fateci capire come è morto Davide per appunto il decesso di Davide pian piano da Assisi notizia diretta scuola dell'infanzia di Monte Castelli iniziate la ristrutturazione partiti i lavori per un importo di 330 mila euro Foibe Lampio organizza una mostra per non dimenticare sottolinea sempre notizia diretta Gualdo News invece Stadio Luzzi di Gualdo Tadino a breve il via lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria mentre alla secondaria di Gualdo Tadino incontro sulla sicurezza in rete con il comandante Mattei mentre Patrizia Parlanti a casa Sanremo con il suo libro per Alisia Torniamo ai quotidiani torniamo al Corriere dell'Umbria in ritardo due treni su dieci saltano le coincidenze report sulla tratta Foligno-Perugia-Terontola la direttissima per Firenze in campo progetti per raddoppiare i binari e accelerare la velocità dei convogli scrive proprio il quotidiano Trenitalia risponde il gap risulta ridotto nel segmento Umbro nuove stazioni una per le merci e una per l'aeroporto Freccia Rossa oneri ridotti grazie all'agenzia Palazzo Donini conferma la notizia del servizio attivato per il 2023 e prorogabile fino al 2024 restano le penali per Trenitalia agevolazione fiscale il beneficio prodotto dal nuovo ente regionale intanto congelato il rincaro sugli abbonamenti incrementi scattano per la corsa semplice armonizzare la gestione delle linee interregionali a parlare è l'assessore ai trasporti della giunta Gianni Adarezzo che ha scritto all'omologo Umbro Melasecche per chiedere un incontro entro questo mese parliamo di Stefano Baccelli ipotesi di lavoro scrive proprio il corriere sostituzione degli apparati e centraline di alimentazione il protocollo atto firmato in vista della Medio Etruria questo per quanto riguarda appunto anche la connexion tra Toscana e Umbria dimissioni volontarie la carica dei 13.000 cambiando argomento perché dopo il boom del 2021 la tendenza è in calo nei primi mesi del 2022 aumentano le stabilizzazioni dei contratti scrive proprio il corriere l'analisi della ricercatrice Aura Elisabetta Tondini oggi è uscito un nuovo studio sui contratti di lavoro lo scrive proprio il corriere il caso Monteluce parla l'assessore Fioroni salvataggio epoca anzi scusate il consigliere regionale Paola Fioroni della Lega salvataggio epocale del centrodestra sottolinea e poi la delibera nuovo taglio della spesa sulle partecipate bilancio negativo per Umbria Jets sempre da Palazzo Donini piccole e medie imprese bollette più leggere risparmio di 27 milioni le micro e piccole imprese dell'Umbria pagheranno meno l'energia elettrica e il gas naturale ma rispetto al periodo per pandemia i costi sono ancora elevati Dogane scoperti invece frodi per 34 milioni il bilancio dell'ultimo anno riguarda in particolare i settori della compravendita di auto e di prodotti energetici anche giochi d'azzardo sono stati 413 controlli sugli oltre mille esercizi in Umbria è siglato anche un protocollo con le scuole di ogni ordine e grado per una educazione alla legalità cibo orologi denaro sequestrati invece in aeroporto sono stati 72 verbali contro i vegettori che portavano nei bagagli generi alimentari distrutti due quintali di carne false fatture per coprire le mazzette ecco svelato il sistema corruttivo nell'inchiesta sulle autorizzazioni per le cave spunta anche l'evasione si legge proprio sul corriere passiamo quindi ai fatti della cronaca sulla nazione devi pagare o lui finisce in carcere anziana raggirata caccia al truffatore dice di essere un agente racconta che il figlio ha investito una persona lei gli consegna 4.000 euro invece fermato a Roma è lo stesso già condannato per fatti analoghi a Perugia l'abbiamo già visto abusi su minore arrestato di nuovo coach di basket ex appuntato dei carabinieri dovrà adesso risarcire invece l'arma la sentenza della corte dei conti 5.600 euro di risarcimento coinvolto anche in un parallelo procedimento penale al militare vengono contestati degli accessi ai sistemi informatici dell'arma per finalità diverse da quelle di servizio alla centra il carro di Perugia invece è tentato furto ma il titolare mette in fuga il ladro sempre dalla nazione coppia di anziani uccise dal covid badante indagata per omicidio colposo secondo i periti non è possibile però stabilire un nesso di casualità tra la positività della donna e il contagio non ci sarebbero i tempi di incubazione gli atti tornano al pubblico ministero assisi messa per Davide ad un mese dalla tragedia ci sarà sabato all'ora 18 nella cattedrale di San Ruffino per Davide Pianpiano agenzia delle dogane lotta ad evasione falsi bilancio 2022 certifica anche il buon andamento dell'economia non fu struncato doverdosa la famiglia pretende giustizia Nicola Romano aveva 26 anni quando venne ritrovato senza vita respinta ancora dal GIP la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura i parenti fu omicidio la tragedia avvenne il 17 scusate agosto 2013 in un appartamento del centro di Perugia sindaci la busta paga è più ricca sempre dalla nazione è scattato l'incremento del 68 per 100 arrivano in questi giorni le liquidazioni di gennaio e primi cittadini assessori dei 92 comuni umbri e anche i consiglieri comunali potranno vedere crescere l'assegno mensile ma dipenderà dalle presenze qui nel grafico proprio le nuove indennità dei sindaci indennità mensile lorda in euro per quanto riguarda Perugia Terni da 7.858 del 2022 si passa a 9.173 del 2023 fino a 11.040 del 2024 città di Castello Gubbio e Spoleto da 3.886 del 2022 a 4.280 fino a 4.830 tra 2023 e 2024 quindi per la sanità 7 psicologi alla ASL 1 e 2 nella ASL 2 con contratti autonomi la novità appalti pubblici la regione protagonista della nuova legge scrive sempre il quotidiano La Nazione scende anche il costo di elettricità e gas le imprese risparmiano 27 milioni rispetto all'ultimo trimestre 22 le aziende Umbra avranno bollette meno care del 24 per 100 con il presidente della Camera di Commercio Mencaroni che invita sempre tutti alla prudenza Frecciarossa anche nel 2023 1 milione per il nuovo accordo come abbiamo già visto lavoro in estate dal PNRR risorsa la provincia per rifare le strade assegnati 3 milioni di euro per realizzare opere contro i dissesti idrogeologici lungo la viabilità provinciale RSA regione ferma da due anni la denuncia che arriva dal consiglio regionale Tommaso Bordi del PD Tevere tutti i nuovi progetti con il calendario degli incontri in arrivo il primo è in programma oggi alle 18.30 a Ponte Valle Ceppi veniamo all'inchiesta anche del messaggero covid anziani morti a processo labbadante che li ha infettati Perugia dopo la morte dei coniugi è scattata la denuncia dei figli la donna non avrebbe atteso in quarantena l'esito del tampone la procura le contesta omicidio colposo cagionato il decesso dei due anziani viene virgolettato Ndrangheta Perugia il comune è pronto a chiedere i danni agli imputati anche in appello e poi anche qui allenatore arrestato per molestie su minore cinque anni fa era già stato condannato a Perugia oltre a due anni di risarcimento il giudice di Perugia gli aveva imposto di svolgere i lavori con i ragazzi viene proprio ricordato anche sul messaggero quindi sempre in primo piano la croce del caro energia bollette lo slalom tra rateizzazioni e chiusure delle ditte famiglie piccole imprese nel limbo a causa dei costi energetici da noi con bollette triplicate sperando in un errore ma i conti sono giusti ha dichiarato Carla Falcinelli presidente Codacons Umbria qui in foto per le piccole e medie imprese attese riduzioni tariffali del 24-27% dilemma parrucchieri tentati da ritoccare i prezzi e poi antifrodi l'agenzia delle dogane ha recuperato 34 milioni di evasione monopoli sanzioni per un milione soltanto nel settore monopoli scusate sanzioni per un milione soltanto nel settore tabacchi questo per quanto riguarda dunque le notizie in primo piano che proseguono sul correre dell'Umbria con l'intervista Vittorio Bianchini e il suo tanto amato mare ho portato gli italiani sott'acqua con allegria il perugino 63enne ha cambiato il modo di approcciare alla subacquea viene ricordato anche nel la sua intervista rilasciata al corriere ho lavorato sia per la NASA che per l'ESA e ho condotto un addestramento per otto astronauti all'isola del Giglio ricorda Bianchini quindi per quanto riguarda anche il corriere la notizia che va per la maggiore abbiamo visto sui quotidiani arrestato per violenza sessuale allenatore di basket a Perugia il 55enne portata a Regina Celi nel 2015 condannato per fatti analoghi in Umbria a Perugia la voce dei lettori sul corriere cedono le sponde del Genna i podisti del percorso verde segnalano protezioni in legno di velte e rifiuti sul letto del corso d'acqua qui alcune foto che lo testimoniano Palazzo dei Priori fa sapere che gli interventi spettano la regione l'ente invece chiama in causa il municipio tra responsabilità e rimpalli di appunto dover intervenire sul tratto semaforo finanziato dalla provincia all'accio a carico del comune di Deruta questa è la risposta per quanto riguarda invece un'altra problematica che fa seno proprio alla comunità derutese qui invece sempre sul corriere si parla anche di 5 furti in un'ora a Elce i malviventi entrati nelle case dopo le 19.30 scatta anche l'allarma attraverso l'associazione di quartiere le bande sono in grado di vistare di visitare decine di appartamenti in meno di 24 ore viene rimarcato suo figlio ha investito una persona voglio 10.000 euro la tentata struffa che è arrivata proprio a Perugia una 76enne che gli ha dato 4.000 euro e poi la central car di Perugia proprietario mette in fuga il lato l'uomo è scappato con l'incazzo della macchinetta del caffè alla vista dei poliziotti abbandonano lo zaino con le sostanze stupefacenti contro le incittà identificati 117 conducenti e monitorate 52 vetture a fonti veggie verifiche contro la prostituzione andiamo quindi ancora al correre la macchina degli aiuti per Siria e Turchia si muove domenica pranzo solidale Caritas di Cesana segue la direttiva nazionale di convogliare tutti i fondi e assutenti si immobilita nei mercati per raccogliere anche beni di prima necessità sopralluoghi di protezione civile regione per invio dell'ospedale da campo per quanto riguarda gli aiuti alle popolazioni siriane e turche Abdastar Nijem oggi è impossibile anche far arrivare soccorsi il referente della comunità siriana in Umbria è da sempre impegnato in azioni umanitarie anziani morti dopo contagio ipotesi omicidio come abbiamo già visto ex ross Gisabella condannato alla corte dei conti accolta la tesi del danno della disservizio cifra da rifondere più che dimezzata scrive proprio il Corriere quindi sempre per quanto riguarda Perugia nubi di stormi coprono il cielo rimarranno tutto febbraio sottolinea proprio l'IPU da Ellera a Montetezzo il fenomeno viene continuamente segnalato dalla popolazione qui anche alcuni scatti molto suggestivi fotografici con due enormi stormi di uccelli da una decina di giorni che girano in tondo nella zona di Colle Umberto Montetezio Mantignana Aellera e Corciano sì intanto all'aumento della quota per la fondazione anti usura sono stati 14 voti favorevoli in consiglio comunale per l'ordine del giorno presentato dalla consigliera Roberta Ricci della Lega e poi ancora vince 20.000 euro al 10.08 con un 8 doppio oro lunedì alto colpo di fortuna in città le estrazioni hanno portato un bel regalo grazie a un terno secco e poi ne parleremo nel caffè il Bartoccio sul frigorifero diventa anche calamita svelato il nuovo oggetto in ceramica parla Zuccherini proprio della foriazione il Bartoccio tutti i perugini vorranno un attacchino gli attacchini sono l'ultimo prodotto dell'oggettistica ideata dalla forietà del Bartoccio la realizzazione è dell'artista Maria Antonietta Taticchi qui lo riporta il Corriere poi come detto ne parleremo nel dettaglio Carnevale di San Sisto tra sfilate di carri musica e cene show domenica il primo appuntamento nel quartiere per quanto riguarda anche il Carnevale in arrivo con i vari carri a Perugia andiamo anche al messaggero Monteluce bene ripartire ora pensiamo alla piazza cittadini associazioni per la ripresa del cantiero al comparto cauto ottimismo il nodo della piazza da ripensare il caso del sottopasso chiuso da anni qui proprio la foto delle transenne dinanzi al sottopasso di Monteluce rifiuti abbandonati c'è anche un lavandino segnalazioni in tante zone della città dai via Settevalle e quartieri della periferia per quanto riguarda gli oggetti lasciati abbandonati l'incuria tra cui anche un lavandino e un pneumatico farmacisti l'ordine premia Tiralti per anni un punto di riferimento la professoressa Maria Cristina Tiralti docente universitario e farmacista nuovi giochi per bimbi e piante donazioni per quattro aree e verdi per quanto concerne tra questi anche il parco di Madonna Alta a Perugia spaccio e degrado qui siamo di Serebivi a Campodimarte da un condominio esposto uno striscione contro il degrado e la presenza di spacciatori residenti segnalano presenze inquietanti nei garage e l'ultimo intervento ieri incendio causato da alcuni tossici abbiamo fatto esposti e segnalazioni ma nulla cambia non si può più accettare dichiarano proprio i residenti della zona paghi o arresto suo figlio anziani nel mirino danno di immagine corte dei conti condanna carabinieri imputato dovrà risarcire oltre 5 mila euro la procura contabile ne aveva chiesti 15 mila e poi assalto in concessionaria l'altro messo in fuga dal proprietario assisi botti tra due donne al centro commerciale una cittadina italiana classe 1984 e una 38enne appunto sarebbero scusate una 38enne una cittadina italiana classe 91 questo viene appunto riportato da il messaggero l'intervento degli agenti della polizia di stato del commissariato di assisi intervenuti in un centro commerciale a Santa Maria dei Angeli per una violenta litri tra due donne per l'appunto poi è stata riportata la calma ci sono comunque le immagini al sistema di videosorveglianza che faranno luce sul caso questo per quanto riguarda dunque la pagina regionale passiamo ai territori lo facciamo con Gubbio con il servizio che riguarda il progetto Martina dedicato alla prevenzione oncologica e soprattutto alla situazione in cui riversano anche per fare proprio anche sensibilità sul tema i malati oncologici portato avanti dal Lions Gubbio sentiamo La lotta ai tumori inizia a scuola è questa la convinzione da cui prende le mosse il progetto Martina che mira a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie circa l'importanza della prevenzione oncologica attraverso attività di screening e la promozione di un corretto stile di vita portavoce del progetto è il Lions Club di Gubbio che dopo lo stop causato dall'emergenza Covid è tornato tra i banchi di scuola per incontrare i ragazzi e le ragazze del polo liceale Mazzatinti guidato da Maria Marinangeli saranno loro i protagonisti di quattro incontri in cui potranno rivolgere domande e chiedere approfondimenti ai professionisti dell'ambito medico-sanitario coinvolti le dottoresse Serena Castellani e Lucia Brugnoni e i dottori Romano Graziani e Mirko Ceccarieni a conclusione del progetto gli alunni e le alunne saranno sottoposti ad un test per capire cosa li ha maggiormente colpiti rispetto agli argomenti affrontati si chiama Progetto Martina proprio perché una ragazza di 17 anni purtroppo si è ammalata di tumore e ha lasciato una sorta di testamento nel quale indicava le linee da seguire cioè informare i giovani su quello che è la prevenzione che è la cosa fondamentale la prevenzione questo progetto si sviluppa in due incontri di due ore ciascuno con i ragazzi dai 17 16 17 anni ci sono dei nostri professionisti medici all'interno del nostro club che parleranno di quelli che è la prevenzione si parlerà di prevenzione per quanto riguarda l'apparato genitale prevenzione per malattie della pelle si parlerà della nutrizione che è la cosa fondamentale è un progetto molto importante a livello internazionale ed è sposato dai Lions fino ai primi anni 2000 perché ha come oggetto proprio quello di prevenire i tumori nell'età giovanile perché è proprio da questa età che si comincia come diranno i nostri esperti a prevenire e cercare di evitare di cadere in queste terribili malattie Ripartiamo così da Città della Pieve dalle pagine del Corriere dell'Umbria tour romantico che celebra il Perugino da martedì quattro giorni alla scoperta dei luoghi dell'amore tra il pittore Chiara Fancelli spazio anche al Carnevale premio alla miglior maschera a tema Pietro Vannucci quindi da Assisi detenute a lezione dalle ricamatrici l'arte del punto Assisi diventa occasione di recupero sociale e lavorativo per chi è pronta una seconda vita da marzo entreranno in carcere e porteranno di fatti competenze e abilità proprio le ricamatrici Assisane quindi raccolta farmaci per l'Istituto Serafico e ancora Rotary Club 50 anni di progetti e impegno per la comunità per quanto riguarda il sodalizio del Presidente Ronca veniamo quindi a Marciano bilancio in rosso alla SIA il Sindaco chiarisce non ci sarà alcun aumento per gli utenti dopo i timori dell'opposizione sulla partecipata che gestisce i rifiuti il Sindaco di Marciano Mele parla di uscita strampalata e piena di errori conferma appunto sul tema il primo cittadino marcianese Comune e volontariati insieme per sociale e politica giovanili invece a Todi a Gubbio gli aiuti alle famiglie superano un milione sono i contributi del Comune erogati nel 2022 per affitti bollette e assegni di sostegno il bilancio da parte dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Gubbio Simona Minelli qui in foto focus anche su incontri per accoglienza e integrazione intanto a Montanaldo bruciati due ettari di bosco per delle fiamme che sono divampate in una zona impervia del appunto campagna eugubina saggi di storia e cultura nella raccolta di De Albentis oggi alle 18 all'ex refettorio della sperelliana dialogo tra il professore e il sindaco di Gubbio Filippo Stirati riflessioni canzoni supereroi per dire basta al bullismo incontro tra studenti insegnanti genitori del terzo circolo didattico con i carabinieri contro ogni forma di prevaricazione l'iniziativa si è tenuta nella palestra della scuola primaria di Padule andiamo a città di Castello rinasce la scuola dove parti il metodo Montessori si ha l'unanimità della massima stese cittadina per ristrutturare il complesso di Rovigliano subito la proposta a Palazzo Donini intanto il vescovo Paulucci Bedini ha incontrato i sindacati per quanto riguarda la richiesta delle organizzazioni sindacali territoriali CGL CISL e UIL di incontrare il vescovo di Città di Castello Luciano Paulucci Bedini l'evredi da primato all'allevamento a Zamur di Zampini un esemplare nato a Cerbara ma di proprietà russa ha ottenuto il prestigiosissimo titolo di cane dell'anno 2022 mentre vecchi ospedali il caso ora in consiglio regionale Michele Bettarelli del PD ieri ha parlato in aula di pericolo per l'incolumità pubblica furti le telecamere filmano il ladro e il proprietario posta il video sul social qui proprio un frame del video consegnato ai carabinieri dove si vede il ladro in azione caccia all'uomo nella zona di Citerna due colpi in abitazione tentati nella stessa notte strada pericolosa e Petralunga arriva la polizia provinciale dopo le segnalazioni del residente del consigliere Dominici l'ente annuncia rinforzi da Umbertide sono partiti i lavori per la nuova materna a Monte Castelli il plesso rimesso a nuova avrà un costo di 330 mila euro lavori importanti per la comunità ha detto il sindaco Carizia passiamo quindi a Gualdo Tadino perché lo stadio Luzzi sarà rimesso a nuovo interventi in arrivo sul Mante Erboso anche per spogliatoi e gradinate che accolgono gli spettatori attenzione per gli impianti sportivi come luogo di aggregazione rimarca l'amministrazione gualdese la struttura per anni punto di riferimento per partite di caratura nazionale il Luzzi da Valfabbrica ufficio di via Roma rispecchia le esigenze dei cittadini la risposta di posti italiani inviata al comune è arrivata a settembre il sindaco non l'ha resa nota rimarca Umberto Tessitore consigliere comunale della Lega quindi per gli spettacoli Tribute Band per De Andrè a Gualdo Tadino domani mattina gli studenti del Casimile e del Comprensivo faranno conoscenza con l'uomo e l'artista Fabrizio De Andrè e poi la sera uno spettacolo al 21 al Teatro Don Bosco aperto a tutti nella primaria di Gaifani i bambini scopono intanto il Go iniziativa della futazione diamoci una mossa con il gioco da tavolo di origine cinese che stimola ragionamento e memoria veniamo quindi a Foligno nessuna irregolarità alle farmacie comunali viene rimarcato secca replica del CDA di Afam all'accuso dei sindacati mai avuto comportamenti antisindacali o negato permessi quindi fucili non custoditi in sicurezza è stato denunciato un sessantenne non ha comunicato il trasferimento delle armi e non aveva un armadio blindato ancora sosta selvaggio in via Garibaldi auto parcheggiate sui due lati il cartello di divieto H24 non preoccupa gli automobilisti decine di segnalazioni sui social dall'ospedale a piazza Giacomini quindi ancora scienza e filosofia il festival raddoppia anteprima nelle frazioni di montagna ed evento parallelo anche a Fabriano vogliamo farne la festa del centro Italia ha detto proprio il direttore presidente del laboratorio Mingarelli patto fra università e laboratorio per ricerca e sviluppo tecnologico sempre da Foligno e poi le parole di Costanzo Cottoni per l'assistenza ricevuta all'ospedale San Giovanni Battista grazie a tutto il personale di oncologia quindi sempre da Foligno servizio civile alla carita sulle domande scadono domani andiamo a Spoleto approvato il progetto per la scuola toscano stanziati 3 milioni e 110 mila euro ma i costi sono destinati a levitare per l'aumento dei prezzi delle materie prime per quanto riguarda la primaria appunto di Cerquiglia mentre all'alberghiero lezioni per piatti senza glutine un corso di studio dedicato alle diete per celiaci a teatro sospiri e parole sul palco del Caio Melisso con l'attore Franco Castiglione l'evento in programma sabato alle ore 21 ultimi giorni anche per ammirare le opere di Klaus Munch sabato a Palazzo Collicola la presentazione del catalogo in mostra disegni fogli di PVC e sculture trasparenti in resina raccolti 28 sacchi di rifiuti in un chilometro sempre a Spoleto il gruppo Retake in azione a Madonna di Lugo volontari pronti a ricevere le segnalazioni dei cittadini in calendario 10 tappe per ripulire il territorio e tutti possono partecipare il Corriere con tanto di foto che testimoniano il lavoro sociale fatto dai vari volontari Fiacola Benedettina propace nella Camera dei Deputati e in Vaticano da Norcia e poi ancora da Spoleto serve un modello unico per la ricostruzione Castelli commissario straordinario interviene sulla proposta del ministro Musumeci va poi adottato alle peculiarità del territorio sottolinea andiamo dunque a Terni Imu mancano all'appello 8 milioni la cifra che Palazzo Spada conta di recuperare in tre anni per la tassa sui rifiuti previsto un intretto di 350 mila euro alta tensione intanto nel centro-destra il sindaco è sotto attacco alternativa popolare avverte la maggioranza a questo punto non c'è più e anche il centro-sinistra prova a ricompattarsi quindi condannato per maltrattamenti in famiglia insulti e minacce al padre e alla sorella inflitto un anno e quattro mesi di reclusione a un trentenne l'aste intanto punta su altri 400 posti di lavoro l'incremento occupazionale legato all'entrata in funzione dei nuovi impianti nei prossimi mesi la produzione di acciaio fuso è inferiore alla capacità del sito industriale e ora l'azienda sta così correndo ai ripari sempre da Terni un festival del cinema in arrivo il sottosegretario Borgonzoni ha annunciato la kermessa nazionale nella città di San Valentino presentata alla camera il programma degli eventi per il patrono degli innamorati quest'anno un salto di qualità rimarca il sindaco di Terni Latini primo piano anche sui libri Sigari e Leno Gastronomia l'associazione T3T propone una serie di iniziative per valorizzare il centro più di luco e anche la cascata delle marmore emergenza sangue l'appello dell'assessore Melasec l'esponente politico lancia la sfida sui social e invita i suoi colleghi di maggioranza opposizione a divenire donatori ancora Art Bonus Cenarni Sotterranea ora si può votare il progetto nuova opportunità per il sito dopo i 170 mila euro donati da Bandecchi quindi da Narni ancora Nera Montoro tavolo di confronto permanente sui cattivi odori oltre al comune saranno coinvolti i residenti e le aziende della zona previsto uno scambio di informazioni in tempo reale la nuova centralina verrà inglobata nel sistema di monitoraggio di ARPA per il controllo della qualità dell'aria ad Amelia piattaforme interattive contro le dipendenze in campo Molino Silla lunedì rappresentazione di Meat Life in Senato e poi ancora da Narni nascono gli sportelli di ascolto per i genitori dei bambini con la promozione della cooperativa sociale CIPS proprio per quanto riguarda il tema a Orvieto suolo pubblico sia alle esenzioni con la riforma del regolamento sul canone unico patrimoniale estesa l'occupazione permanente ad altri casi vogliamo aiutare i commercianti dopo le difficoltà legate al covid ha detto l'assessore Pizzo gravi incidenti invece lungo l'autosuole restano ferite due suore traffico in tilt 5 persone ferite in totale sulla 1 allarme furti controlli su 70 persone e 60 auto tra Castel Biscardo e Castel Giorgio sempre nell'Orvietano e poi incontro tra i sindaci sui fondi per la mobilità elettrica si discuterà sull'utilizzo di 300.000 euro per bici elettriche da destinare all'area interna sud-ovest stupita da certe discussioni ha detto il sindaco di Orvieto Roberta Tardani qui in foto all'inizio c'era parlato di acquistare colonnine di ricarica per veicoli il progetto che è stato poi accantonato veniamo al messaggero vogliamo sapere come è morto Davide D'Assisi la famiglia Pian Piano sollecita una perizia balistica alla procura di Firenze Davide Eralto 1,84 come poteva essere scambiato per un cinghiale Fabri non è credibile questa è la tesi dell'avvocato Matarangolo città di Castella emergenza sanità ora il comune chiama la regione Gubbio i carabinieri a scuola così va detto basta al bullismo Todi intesa con i cittadini patti di collaborazione in arrivo città di Castello polizzotti anche qui in classe collezioni di legalità e inclusione quindi veniamo a Foligno farmacia comunale AFAM il CDA ecco la verità nessun comportamento antisindacale nemmeno orari massacranti viene evidenziato ancora la festa di scienza e filosofia con l'intelligenza artificiale interditiva antimafia l'attività commerciale chiusa già da tempo verifica sulle armi una denuncia sempre nel Folignate a Spoleto cimiteri poco personale le salme stanno in stand by l'ASE ha una sola squadra di tumulazioni i familiari fanno costretti ad attendere il nuovo amministratore ASE Paolucci avviata la procedura per il concorso conferma intanto 50 opere invece realizzate a Palazzo Collicola ha salvato la presentazione del catalogo nel più ampio cerchio in qualche luogo Castelluccio raccomandazione suggerimenti dopo la bufera di neve Marzo Benedettino fiaccola Benedetta da Papa Francesco per questa notizia che arriva da Norcia Terni debiti di droga i giovani vittime delle dosi gratis dopo il caso del sedicenne si allarghi il giro degli studenti coinvolti nei furti oro rubati in casa per pagare il pusher sotto la lente la compravendita di gioielli Basilica riapre un ascensore e accesso pedonale il nuovo parco di Cardeto dato in gestione a Terni Reti e poi maltratte per due anni padre e sorella c'è stata la sentenza in tribunale Tappoiarvi rampa scori il primo test è negativo le polveri non calano il problema maggiore è stato riscontrato nel raffreddamento dei rifiuti prodotti dall'acciaieria in un ambiente chiuso allarme di grado intanto a Borgorivo con rifiuti gettati dalle auto asta accordo di programma Reburs per quanto riguarda le risorse regione in pressing sul ministero per avere chiarimenti in vista della chiusura dell'iter veniamo quindi anche ai territori sulla nazione Trafomec la prima asta va deserta nessuna offerta per acquistarla da Panicale si apre la possibilità per la cooperativa costituita tra gli ex dipendenti di avviare il percorso proprio per rilevare l'azienda da Sisi comune la proietti prende tempo verifica di maggioranza ora c'è attesa per le decisioni del sindaco gli scenari del dopo Capitanucci ancora per quanto riguarda invece Gubbio allarme bullismo lezione con i carabinieri nella palestra di Padule consigli e suggerimenti per contrastare fenomeni preoccupanti Gualdo Tadino le canzoni di Fabrizio D'Andrea nelle scuole a Nocera Umbra primaria di Gaifana protagonista nel gioco del Go quindi Città di Castello ecco la nuova rotatoria via ai lavori in via Morandi e mentre per quanto riguarda Monte Castelli restyling per la scuola umbertidese Serafini unico rappresentante di Italia Viva polemica in Consiglio Comunale sempre Città di Castello Acquatino senzaacco una frazione in rivolta quasi 100 persone ancora costrette a prelevare la risorsa erica dai pozzi dobbiamo anche spendere per gli impianti di depurazione che vergogna viene appunto messo in evidenza sulla nazione per questa notizia che arriva da Spello San Valentino un festival nazionale già dal 2024 da Terni la guerra porta paure la festa del patrono rilancia la pace quanto dice il bescovo di Terni intanto Orvieto allarme furti in casa e anche delle truffe idroelettrico esulta Thomas De Luca del 5 Stelle risorse sia in Valnerina che nell'Orvietano passiamo dunque alla pagina dei eventi su tutti quelli del carnevale sfilano le paure degli italiani scrive il messaggero Gianni della sua rubrica macro ricordando che Putin è spesso un volto dei carri da Larino in Morisa San Teraclio in Umbria a Foligno con attenti al Matt uno dei carnevali sicuramente più rilevanti del centro Italia quello di San Teraclio e poi sempre da giorni e notte del messaggero Perugia le camere con vista di Marco Nicolini la mostra appunto al museo dell'Accademia di Belle Arti Pietro Bannucci mentre baci maschera un po' di festival ci sarà anche a Collestrada sempre nel Perugino tra gli ospiti anche LDA protagonista al festival di Sanremo Schubert Edel e Paganini all'ora del tè alla stranieri sempre di Perugia Patrizia Parlanti per Alisia da Gualdo a Sanremo lo ricorda anche il messaggero Carnevale a San Sisto scaldano i motori per i carri e poi l'intervista Gabriella Genisi un altro libro sull'olite troverà l'amore vero le anticipazioni della scrittrice pugliese che ha inventato la figura della Lobosco poi riportati in Rai da Luisa Ranieri mi emoziona pensare di parlare di sentimenti a Umbria Libri Love dove è stata ospite proprio Gabriella Genisi anche il Ministro della Cultura parla a terra in una rassegna nazionale di cinema l'annuncio ieri alla Camera il paroliere mogol sarà al CLT sabato pomeriggio alle ore 17 tempo libero per quanto riguarda anche la nazione Humus Fest il Trasimeno sbarca a Perugia sabato e domenica eventi tra cinema art e musica degustazioni e incontri per raccontare le bellezze del lago quindi a Gubbio Biblioteca Sperelliana ecco i percorsi aperti di Emilio dei Alventi soggia alle ore 18 mentre le marionette Colla raccontano l'isola del tesoro magia avventura senza tempo al Cucinelli di Solomeo mentre il giorno del ricordo si celebra tra arte e parole per le vittime delle foibe con tante iniziative in programma il funambolo della luce a teatro la storia dello scienziato Tesla a Marsciano al Concordia lo spettacolo sull'uomo che illuminò il mondo scrive proprio il Corriere e poi Ottavia Piccoli invece a Gubbio la mafia spiegata ai bambini con lo spettacolo Cosa Nostra spiegata ai bambini a Ronconi stasera con i solisti dell'orchestra multietnica passiamo così allo sport Perugia Santoro firma Curado si ferma dal QS inserto della nazione il centrocampista prolungato fino al 2026 il difensore va a KO salta sicuramente Ascoli e Derby Olivieri ieri in campo a pieno ritmo per quanto riguarda invece la Ternana Bandecchi rassicura Unicusano resta in società potremmo farlo anche con una quota maggiore del 20% Serie C oggi amichevole con l'Arezzo per quanto riguarda il Gubbio Arras, Reco, Dutto e Nicolao questi i volti nuovi del Gubbio presentati ieri al Barbetti insulta l'arbitro quattro mesi di stop al dirigente Under 15 giocatore scolificato fino al 15 di ottobre mentre in eccellenza il futuro del Foligno sarà svelato nelle prossime quattro partite fa il punto proprio il QS Sir Perugia Anastasi restiamo concentrati prosegue il lavoro al Palabart fare i puntati sull'Itas Trentino domenica avversario dei Block Devils basket a due femminile col Pumbertide arriva Laura Gatti giocatrice classe 2001 che viene proprio a Umbertide per dare maggior ventaglio di scelta a coach Staccini dopo i tanti infortuni che ha avuto il roster umbertidese Serie D città di Castella tavola si vince tutti insieme allo storico locale del Mura intanto la gara con lo Stiamare anticipata a sabato 11 andiamo anche al Corriere dell'Ubre per quanto riguarda le notizie di carattere sportivo Grifo occhio all'ex Breda il tecnico debutterà ad Ascoli proprio contro i Biancorossi loro giocano come Alvini intanto Santoro ha rinnovato con il Perugia fino al 2026 Oliviri recuperato curato ai box per tre settimane per quanto riguarda il notiziario da Pian di Massiano Fere Bivio playoff Parma più Palermo il derby nel mezzo per la Ternana Faville e Palumbo in gruppo ancora ai box Mantovani stop per due problemi muscolari per ragazzi e Bogdan nelle fere l'intervista del Corriere invece parlando di volley a Gerbic ex tecnico della formazione bianconera della Sir Perugia la Sir è forte ora la rosa è più profonda l'ex coach la panchina dei Block Davids farebbe i playoff l'anno scorso penalizzati da infortuni e rivali di miglior livello ha detto Gerbic nella sua intervista al Corriere dell'Umbria tornando al calcio Serecci Gubbio pronti a rialzarci parlano di nuovi acquisti il portiere greco opportunità colta al volo mi pare di essere qui da inizio anno ha detto il terzino Nicolao sto bene da settembre mi sono sempre allenato ha detto sempre greco poi l'attaccante Arras a mandare negli spazi volevo rimettermi in gioco ha detto invece il difensore Dutu oggi invece test con l'Arezzo al Bernicchi di città di Castello promozione di non è a poker del Pier Antonio e più 15 in vetta per quanto riguarda la formazione capolista nel testa coda e poi sempre per lo sport il ritorno di Mambrini altra panchina Cuba firma col Guantanamo il 44enne tecnico di Vernate è stato ufficializzato dal club grazie per l'affetto ora sosteneteci ha detto l'ex Valfabrica la PF Umberti ingaggia Gatti con la spezza intatto la partita è stata rinviata al 22 di marzo su richiesta della società umbertidese rugby la fortitudine all'Olimpico per la gara dell'Italia a 6 nazioni nuoto 2VN Winter Meet già pienone con 500 atleti iscritti per l'evento che si terrà alla piscina Pellini di Perugia ancora per lo sport il 1500 per la C'Ambiente per il podismo presentata la dodicesima edizione della Maratona di San Valentino Lucky Wind KO sorride le dottor Rossi nel volley serie B e poi l'abbiamo visto dalla prima pagina alunni bravi promosso all'Alfa Romeo Sauber non ci poniamo limiti ha detto l'avvocato umbertidese che risiede in Svizzera cresciuto alla colonna di Passignano nominato nuovo team representative per quanto riguarda Alfa Romeo chiudiamo con il messaggero Grifo la chiave è in mezzo parlando proprio del punto tattico con la mediana decisiva ancora Mattia Pruetti Gagliardoni talento da campione italiano per il giovanissimo ciclista che abbiamo avuto ospite nel nostro caffè qualche settimana fa Foligno sale d'attesa per il rally cittadino in città Fere si fermano Agazzi e Bogdan dirigente calciatori rosso e verdi a Santa Maria intanto per le donazioni per l'emergenza sangue poi maratona di San Valentino vedete anche sul messaggero c'è il boom di iscrizioni oltre 1500 partecipanti questo per quanto riguarda dunque anche lo sport e la pagina che riguarda le varie discipline sui vari quotidiani noi ci fermiamo qualche istante e torniamo quanto prima con il caffè parleremo di carnevale in arrivo restate con noi grazie a tutti